...l'azienda agricola nell'allevamento di maiali e di cavalli. Con mio marito abbiamo cresciuto 7 figli, ognuno ha potuto prendere la propria strada professionale e la nostra azienda è stata ora rilevata da un dei figli e per il futuro della sua famiglia è importante che nella Costituzione federale venga esprito questo articolo 104A di sicurezza alimentare. Inoltre il figlio maggiore, dopo la scuola di Bezzana, gestisce da anni una propria azienda. Questo articolo 104A evidentemente è importante per lui e per tutto il cieco agricolo. Sono presidente dell'Associazione Donne e Contadini Cinesi, il cui scopo è quello di essere d'appoggio allo settore primario, alle società agricole sia per attività creative come pure per cercare di risolvere i problemi legati al mondo crurale difesa del mondo per la sicurezza alimentare nella Costituzione federale. perché un'agricoltura e un settore agroalimentare che risponde alle esigenze del mercato garantiscono posti di lavoro per donne e uomini. Le possibilità devono essere appunto dai nostri luoghi. Se esistono aziende familiari, le mamme possono portare i loro figli nelle stalle, e incontrarsi con gli animali, capire chi produce il latte e così via. Poter godere dei colori dei campi gialli, della colza, dei girasoli, dell'un costello alto, del grano turco con le belle pannocchie e anche, ma anche, i campi degli agricoltori necessitano spazi. Scuola e fattoria aiutano gli scolari al mantenimento nella conoscenza della produzione. La possibilità di riprendere un'azienda agricola in modo da entrare nel mondo della produzione è, anche nel XXI secolo, l'obiettivo principale per molti agricoltori. I giovani agricoltori non sono mai stati così ben formati in Europa e siamo pronti e motivati per affrontare al meglio le sfide. Siamo coscenti di ciò che sappiamo, di cosa possiamo fare, che questa crema significa rendere. Sappiamo anche che nel futuro dovremo sempre di più adattarci alle necessità e ai desideri delle consumatrici e dei consumatori. Questo significa che dovremo sempre di più prenderci pure delle risorse che abbiamo a disposizione, date di queste, nella piccola ma concluta senza la produzione, Grazie. 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 Grazie.